Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR, grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante per chi non mi conoscesse io sono Federica e quello che state per guardare è appunto un video interamente in whispering quindi realizzato con questo tono di voce sussurrato che spero appunto sia piacevole per voi nel quale affronterò un argomento di cui in tanti mi avete chiesto di parlare ovvero il filler ovviamente se l'argomento non è di vostro interesse non c'è nessun problema potete semplicemente lasciarvi guidare dal suono della mia voce e anche dal trigger che ho scelto di accompagnare a questo whispering che vedrete tra poco, spero in ogni caso che sia piacevole per tutti voi e che vi faccia piano piano addormentare e ovviamente per chi fosse interessato spero che il video contenga anche qualche informazione utile parlerò del filler di acido ialuronico e della mia esperienza è un argomento al quale ho già accennato più di una volta in altri video però siccome lo faccio periodicamente noto che appunto periodicamente ricevo delle domande e del tipo quanto costa, fa male, che effetti ha, è reversibile, in quali zone si può fare eccetera eccetera quindi adesso andrò a rispondere alla maggior parte delle domande che mi vengono poste in merito vi consiglio come al solito semplicemente di indossare le cuffie e di distendervi in un posto comodo per ascoltare e guardare questo video e in più vi chiedo se l'argomento vi piace o comunque se volete supportare il mio canale di lasciare un bel mi piace per farmelo sapere e ovviamente se non siete ancora iscritti o iscritte al canale fatelo adesso attivando la campanellina per non perdere i prossimi video non ho altro da aggiungere, adesso iniziamo! bene, intanto piccolo momento pubblicità la maglia che ho indosso è di Pampling ve la mostro un attimo, spero che vi piaccia, mi piace moltissimo penso di mettere comunque una foto che la faccio vedere meglio su Instagram in ogni caso se vi piace, se ne vorreste una o quale potete andare seguendo il link che è giù in descrizione a sceglierla sul sito di Pampling e approfittate del codice affiliato EFETI per ottenere uno sconto in più con ogni maglia acquistata in questo periodo dando delle calze, dei calzini insomma gratis quindi è un'ottima promozione bene 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 nonostante questo sia un video chiacchiericcio direi di non perderci troppo in chiacchiere e di mostrarvi il trigger che ho scelto di utilizzare mentre vi parlo appunto dei filler e questa boccetta di profumo al giglio di tesori d'Oriente la utilizzerò principalmente per fare un po' di water sauce ah 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 vi ricordo che sempre giù in descrizione potete trovare il link per preordinare il diario agenda ASMR 2020-2021 fatelo adesso mi raccomando perché preordinandolo potrete scegliere la copertina e soprattutto potrete avere un audio in regalo un audio ASMR e una tetica sull'agenda stessa allora parliamo appunto del filler vi faccio questa premessa che io non sono un medico non ho competenze mediche e quindi per qualsiasi informazione più specifica è opportuno che ovviamente sentiate il parere di un esperto se poi siete dei medici e notate nel mio discorso delle imprecisioni allora vi invito ovviamente a correggermi scrivendo dei commentini qui sotto voglio però raccontarvi appunto la mia esperienza personale innanzitutto che cosa è questo trattamento che faccio allora si tratta di iniezioni di acido ialuronico nel mio caso all'interno delle labbra ma è un trattamento che in realtà può essere destinato a diverse zone del corpo e del viso dunque l'acido ialuronico è una sostanza che è già presente all'interno del nostro corpo e per questo motivo viene riconosciuta come amica non è plastica, non è silicone è appunto una molecola che già di nostro noi possediamo la potete trovare per esempio anche nelle creme idratanti e in altri prodotti cosmetici è un trattamento che essendo microinvasivo perché comunque si tratta di infiltrazioni di una sostanza quindi è un trattamento che si esegue attraverso l'impiego di aghi deve essere effettuato da un professionista, un medico quindi non è possibile che lo facciano degli estetisti per esempio solitamente lo fanno medici specializzati in chirurgia estetica o chirurgia plastica ma non è detto perché può essere effettuato anche come avviene nel mio caso da dermatologi in realtà chiunque possieda il titolo e le competenze insomma per farlo dunque il trattamento ha essenzialmente lo scopo di aumentare il volume parliamo adesso della zona delle labbra perché è quella che insomma vedete su di me di aumentare il volume della mucosa oppure di correggere delle asimmetrie o entrambe le cose quando viene effettuato in altre zone del viso solitamente lo si fa per riempire delle piccole rughe oppure per simulare le ossa e quindi correggere la forma di alcune parti del viso è molto frequente ultimamente e anche molto interessante secondo me il trattamento che si chiama rino filler ed è appunto un filler di acido ialuronico che viene posizionato sul setto nasale per correggere eventualmente nel caso la persona che lo richieda lo consideri un difetto o comunque una preoccupazione il cibo del naso quindi la coppetta ho visto risultati davvero molto molto interessanti anche in quel caso però si tratta di un tipo di prodotto molto diverso da quello che viene solitamente impiegato per le labbra infatti è necessario che le labbra siano morbide mentre è necessario che la zona del naso dovendo simulare l'effetto dell'osso del setto sia ovviamente più dura quindi prodotti più morbidi come quello destinato alle labbra hanno anche una durata inferiore nel tempo che significa questo? significa che il trattamento è in ogni caso reversibile nel senso che la molecola viene metabolizzata credo si possa dire metabolizzata comunque riassorbita dal corpo perdonatemi se faccio degli errori di tipo tecnico e vi invito di nuovo a correggermi nel caso ci siano delle imprecisioni comunque il senso è che appunto il corpo tende a riassorbire questa molecola e quindi è un trattamento assolutamente reversibile sia nel caso di un prodotto più duro sia nel caso di un prodotto più morbido ma nel caso di un prodotto più morbido è reversibile in maniera più veloce quindi l'effetto passa nell'arco di alcuni mesi io l'ho iniziato a fare quando avevo circa 22 anni perché c'è una persona diciamo di famiglia comunque una persona a me vicina che lo fa e quindi mi è stata data questa possibilità e l'ho semplicemente colta e inizialmente ho più che altro per correggere una lieve asimmetria che ho di nascita tra un emilabro e l'altro e tendenzialmente questa asimmetria non viene totalmente eliminata con le iniezioni di acido ialluronico però non so il risultato a me comunque è sempre piaciuto e quindi ho continuato a farlo nel tempo anche se per alcuni periodi non l'ho fatto veramente per tanti mesi addirittura forse credo di essere stata ferma uno o due anni infatti se notate all'inizio del canale nel 2015 se andate a ripescare i vecchi video quello era un periodo in cui non lo stavo facendo e mi sta bene così perché appunto non essendo un trattamento definitivo io voglio poterlo ripetere solo quando lo desidero e quando ne ho voglia ultimamente forse complice anche il fatto che io mi sia un po' abituata alla mia immagine rivedendomi magari nei video lo faccio più spesso diciamo una o due volte all'anno solitamente e niente allora questo è l'effetto del trattamento appena effettuato e sono trascorsi quattro giorni forse ma è comunque meno di una settimana non riesco a quantificare ed è ancora piuttosto evidente perché ovviamente i tessuti si confiano si creano dei piccoli lividi che insomma devono guarire e riassorbirsi quindi inizialmente e lo avrete sicuramente notato nei primi video che ho registrato proprio appena 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 effettuato il trattamento inizialmente dicevo c'è un effetto molto molto strong con un aumento di volume veramente consistente però forse potrete notare che già oggi nonostante sia ancora non del tutto guarito il confiore è molto meno evidente è già così secondo me è abbastanza in linea con quelli che sono i miei gusti diciamo almeno per quanto riguarda il volume nei prossimi giorni tenderà a ridursi ancora un pochino l'effetto e mi sta bene perché non credo a desiderare qualcosa di eccessivamente evidente anche se le labbra sono uno dei miei fetiche quindi mi piace che abbiano una bella forma mi piace che siano in evidenza soprattutto nelle altre devo dire come avviene il trattamento? allora di solito ci si stende sul lettino del medico il medico applica una crema anestetica sulle labbra nel caso voi lo richiediate e io la maggior parte delle volte non l'ho richiesta perché non provo particolare dolore con gli aghi e dovete contare però che ho un'altissima tolleranza al dolore che per me è l'unico dolore quasi insopportabile è quello del ciclo mentre appunto tutti questi trattamenti così non mi fanno chissà che effetto si è sempre un aghetto che entra nella pelle però passa immediatamente dopo 5 secondi la durata totale del trattamento è davvero di pochi minuti quindi vi applica questa crema anestetica e fa sì che effetto ha effetto quindi attende qualche minuto poi sempre il medico utilizza una fiala o più dipende dal risultato che volete ottenere nel mio caso non sono mai arrivata a consumare una fiala intera e utilizza una fiala di prodotto di acido ialuronico appunto conserva l'etichetta del prodotto e la dà poi a voi in modo che possiate sempre essere totalmente consapevoli del tipo di prodotto che ha utilizzato e anche se per esempio cambiate medico richiedere lo stesso prodotto sarebbe bene fare così la volta successiva all'altro medico dandovi appunto l'etichetta del prodotto vi garantisce che la fiala sia nuova appena aperta comunque se il medico è bravo e in teoria lo è fa tutto davanti a voi poi inizia appunto a fare queste piccole iniezioni solitamente si procede prima a riempire un po' il bordo esterno però questa è una cosa che io non faccio fare quasi mai l'ho fatta fare forse due volte in tutta la vita perchè non mi piace tanto l'effetto da un po' quella duck face tipo così e procede quindi prima a delineare il bordo in questo modo e poi a curare il volume quindi a riempire la parte della mucosa e io appunto richiedo solitamente che sia fatto solo questo e il medico durante tutte queste fasi si interrompe spesso e vi mostra gradualmente il risultato attraverso uno specchio in modo che voi possiate decidere se aumentare un po' il volume oppure lasciare insomma tutto così va detto che purtroppo per molte persone e io sono una di quelle l'effetto che si percepisce proprio durante i primi minuti del trattamento è molto diverso rispetto all'effetto finale che si avrà appunto dopo alcuni giorni perchè i miei tessuti e quelli di tutte le altre persone che reagiscono come me tendono a confiarsi subito quindi mentre sia lì sembra che l'effetto sia veramente eccessivo a volte o comunque tanto accentuato poi trascorsi pochissimi giorni tutto si riduce quindi se si vuole un aumento del volume bisogna comunque tenere conto di questo fattore e una delle regole che io mi sono data è quella di fare sempre il trattamento in due volte la prima senza esagerare e la seconda dopo circa 15 giorni per valutare insieme al medico se ci sia o meno la necessità di ritoccare qualcosa molto spesso non c'è però qualche volta è capitato che insomma ci fosse la necessità però questo risolve molti problemi perchè appunto poi lì sul momento è tutto un po' gonfi ovviamente i tessuti sono un po' traumatizzati dalle piccole iniezioni e quindi non si riesce a valutare perfettamente il risultato ok poi un'altra cosa la forma delle labbra solitamente la decidete voi insieme al medico io chiedo sempre che venga rispettata la mia perchè mi piace questa cosa forse si può notare o forse no ma penso di sì quindi una specie di buchino qui al centro così e poi i lati sono un pochino più voluminosi e siccome ce l'ho di natura voglio che sia rispettata questa forma e lo chiedo sempre altra cosa il costo allora io ho la possibilità di farlo praticamente gratuitamente però il trattamento costa dai 250 fino ai anche 300 o 350 per una sola fiala quindi è sicuramente un costo importante ma considerando che può essere anche ripetuto solo una volta all'anno o due se per la persona è importante o comunque se per la persona è qualcosa di gratificante non lo so penso sia comunque accessibile ma calcolate che magari un costo del genere io potrei anche affrontarlo se dovessi perchè non vado praticamente mai dal parrucchiare e non vado proprio mai dall'estetista è veramente molto raro perchè non ho peli quindi ecco così diciamo che risparmierei su altro ecco allora per quanto riguarda il dolore ve l'ho detto fa male è soggettivo non è un dolore di quelli che vi piegate in due logicamente poi con la crema d'estetica secondo me è davvero sopportabile tuttavia per alcune persone potrebbe essere fastidioso ma di buono c'è che non dura tanto è veramente molto veloce e quindi vabbè vi consiglio di non avere paura semplicemente dovrete firmare un consenso informato prima di effettuarlo in cui sono spiegati i vari rischi a cui potete andare incontro ma solitamente ce ne sono davvero pochi è forse sconsigliato nel caso siate dei fumatori nel caso abbiate dei problemi circolatori perchè ovviamente essendo comunque un trattamento che provoca o può provocare dei piccoli lividi sarebbe meglio non andarlo a fare su chi ha già appunto problemi di quel tipo però non è un trattamento veramente rischioso nel senso che non è un intervento chirurgico e insomma è una cosa anche abbastanza frequente non voglio assolutamente minimizzare la possibilità di eventuali rischi ma dirvi che anche in base alla mia esperienza e a quella di tante persone che conosco è valutato come abbastanza tranquillo abbastanza sicuro insomma la durata ve l'ho detta di solito dipende molto dal prodotto può essere anche 3-4 mesi ma può essere anche 6 mesi e in alcune persone addirittura un anno e dipende si dal prodotto dalla capacità della persona di assorbire la molecola anche dal periodo dell'anno so che per esempio i filler fatti in estate hanno una durata inferiore e forse perchè la pelle ha bisogno di più idratazione quindi richiama più acqua no non lo so comunque so questa cosa e spero di non essermi dimenticata niente di aver risposto ai vostri dubbi una cosa importantissima che voglio provare a dirvi riguarda le motivazioni per cui io e altre persone facciamo questo genere di trattamenti sul corpo e qui tolgo il trigger perchè divento molto seria parto dal fatto che come vi dicevo nell'altro video in cui ne ho parlato mi capita di ricevere ogni volta un sacco un sacco un sacco di critiche e apprezzamenti quando faccio il filler e non c'è nulla di male nel fatto che le persone possano apprezzare o anche disprezzare una modifica di qualunque tipo sul corpo di un'altra che sia il taglio di capelli, un tatuaggio, il filler, un lifting, qualsiasi cosa ma io trovo un po' strano questa esigenza quasi spasmodica quindi non c'è nulla di voler esprimere la propria opinione quando soprattutto è negativa nei confronti di qualcosa che è davvero molto personale soprattutto se il tema del video non riguarda quello quindi non so ci sta che magari qui sotto sempre in maniera spero gentile commentiate esprimendo le vostre idee ma mi fa strano che lo facciate su video che riguardano tutt'altro forse sarà strana io, non lo so fatemi sapere anche voi come la pensate comunque dicevo le motivazioni che possono portare una persona a voler intervenire sul proprio corpo e poi facendo delle modifiche di ogni genere sono davvero tantissime e a volte dietro questo genere di scelte c'è anche qualcosa di non proprio sereno di non proprio felice e quindi è sempre una domanda un po' delicata quella di chiedere ma hai fatto questa cosa? perché l'hai fatta? nel mio caso per fortuna non c'è nulla di eccessivamente gravoso di eccessivamente negativo però comprendo che magari per alcune persone questo genere di modifiche sia determinata da magari un complesso, da un disagio psicologico e quindi non so, io per carattere non mi permetterai di andare a domandare a meno che non ci sia proprio un'estrema confidenza ma anche in quel caso comunque avrei delle riserve qualcosa di così personale, non lo so comunque vabbè spero che quello che arrivi dai miei video sia più che altro il contenuto e qualche volta mi fa anche piacere condividere con voi alcuni cambiamenti che faccio oppure alcune cose che credo mi stiano magari bene lo so quando compro un vestito nuovo c'è la possibilità che voglio farvelo vedere un rossetto nuovo quando magari faccio un taglio di capelli particolare oppure un nuovo colore c'è la possibilità che io abbia voglia di chiedervi di parere in merito di condividere la mia gioia del caso con voi è solo tutto sul rispettare secondo me un certo limite e non essere troppo magari invadenti o troppo pesanti nei giudizi solo questo poi poi a ognuno il suo cioè ovviamente a me piacciono delle cose ma magari alla persona X piace tutt'altro quindi ci sta che ognuno si comporti in modo diverso e faccia su di sé quello che desidera fare per esempio a me piacciono le ragazze con i capelli corti 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 però a me non stanno bene quindi li tengo lunghi e basta spero davvero di aver risposto appunto ai vostri dubbi se avete ancora qualche altra domanda fatemela qui sotto e cercherò di rispondervi e spero vi sia stato un pochino utile ma soprattutto rilassante e adesso vi auguro vi auguro la buona notte noi ci vediamo settimana nel prossimo video bacini fatosi buonanotte